La corretta progettazione dei risultati di apprendimento attesi costituisce il primo fondamentale passo per una buona progettazione didattica. Ma i risultati di apprendimento attesi non costituiscono solo un obiettivo al quale dobbiamo tendere, ma costituiscono un vero e proprio punto di riferimento che ci aiuta nelle nostre scelte e nell'orientamento della nostra prospettiva ogni volta in cui ci troviamo di fronte a un bivio nella costruzione del nostro percorso di insegnamento-apprendimento. Perché i nostri risultati di apprendimento attesi possano davvero costituire un punto di riferimento che ci aiuta nella costruzione del nostro percorso di insegnamento-apprendimento, è però necessario che facciamo lo sforzo di formularli veramente bene. Cosa significa formulare bene dei risultati di apprendimento attesi? Significa, in primo luogo, provare a ragionare in termini di prestazioni. Prestazioni che ci aspettiamo che gli studenti siano in grado di compiere alla fine del percorso. Le prestazioni hanno questa bella caratteristica di essere delle cose osservabili. Il fatto che un risultato d'apprendimento atteso sia osservabile ci permetterà, alla fine del percorso, di andare effettivamente a verificare se esso è stato raggiunto o meno. Proviamo con un esempio. Io potrei dire semplicemente «lo studente conoscerà le basi del calcolo integrale», oppure potrei avventurarmi nella costruzione più articolata di un risultato d'apprendimento atteso e dire, ad esempio, «lo studente sarà in grado di esporre, utilizzando il corretto linguaggio disciplinare, le definizioni e teoremi sul calcolo integrale». Credo che sia evidente che nel momento in cui io mi sposto sul piano della prestazione, quindi non dico semplicemente «conoscere» che non definisce una prestazione osservabile da parte dello studente, ma dico «sarà in grado di esporre», creo anche quelle premesse per l'allineamento costruttivo che, secondo Biggs, costituisce la base di una buona progettazione didattica. Vi ricordate? Abbiamo parlato del fatto che Biggs sottolinea l'importanza che i risultati di apprendimento attesi siano ben allineati con gli strumenti che utilizziamo per osservarli e con tutte le attività che mettiamo in gioco nel campo del percorso di apprendimento e insegnamento. Allora, se io formulo i risultati di apprendimento attesi in termini di prestazioni, ne deriva quasi automaticamente la modalità che utilizzerò per valutarli in modo coerente, perché quando dico «sarà in grado di esporre» utilizzando corretto linguaggio disciplinare le definizioni, eccetera, è già chiaro che io andrò ad osservarle creando un contesto in cui lo studente dovrà compiere la prestazione di esporre un contenuto utilizzando un determinato linguaggio. Per cui la probabilità di creare un allineamento realmente costruttivo tra i risultati d'apprendimento, i modi che utilizzerò per osservarli e le azioni didattiche che attiverò, si alza improvvisamente rispetto ad un contesto in cui lascio molto più generico l'obiettivo a cui stiamo tendendo. Per aiutarci nella formulazione dei risultati d'apprendimento attesi in termini di prestazione, possiamo utilizzare una formula d'avvio del risultato d'apprendimento atteso che ci metta in questa prospettiva. lo studente sarà in grado di. A questa possiamo far seguire il verbo, quindi l'azione che ci aspettiamo che lo studente svolga, l'oggetto, il contenuto su cui quest'azione dovrà esercitarsi, il campo d'applicazione specifico di quest'azione e possiamo andare a specificare ulteriormente il nostro risultato d'apprendimento atteso anche dando informazioni sul contesto di attivazione della prestazione. In questo caso avremo lo studente sarà in grado di riconoscere verbo, a partire dall'analisi di planimetria e immagini fotografiche, contesto di attivazione della prestazione, gli edifici religiosi e civili di epoca romanica, contenuto, realizzati nel territorio italiano, campo di applicazione. Proviamo ora a sintetizzare i punti principali. Perché i risultati d'apprendimento attesi ci servano come efficace punto di riferimento nel nostro processo di progettazione didattica? È molto importante che il momento della loro formulazione sia anche il momento in cui noi davvero mettiamo a fuoco le trasformazioni di conoscenze, abilità e competenze che ci aspettiamo da parte dei nostri studenti alla fine del percorso. Per formulare i risultati d'apprendimento attesi in termini di prestazioni dei nostri studenti, che siano poi anche osservabili, possiamo farci aiutare da una formula introduttiva del tipo lo studente sarà in grado di, alla quale facciamo seguire un verbo, cioè l'azione che ci aspettiamo che lo studente sia in grado di compiere, e il contenuto che è oggetto di quell'azione. In questo modo avremo davvero messo a fuoco l'obiettivo al quale tendiamo e che ci servirà da guida ogni volta che ci troveremo di fronte a un bivio nel nostro percorso di progettazione.